lo stacco in questo istante numero 3 Ramblas RG squalificato sbaglia Ramblas RG lontana Rania O'Brown di Galoppo sbaglia anche René DWS sbaglia anche Ramblas RG ok e intanto quali che vanno ad affrontare l'imbocco sulla prima curva con Raja J W al comando il quarto iniziale in 29 spiccioli nella scia della battistrada Rina da Pisa poi Roy Bosti J Bay Rorò Buio che prova a farsi avanti in terza ruota numero 12 Rania Schage squalificato anche Rania Schage e intanto Raja al comando Rina di rincalzo Rorò Buio che avanza a largo in terza ruota René DWS siamo verso l'imbocco della curva conclusiva con Raja in vantaggio Rorò all'esterno René in terza di dentro Rina da Pisa davanti a Roy Bosti J Bay a largo Riel che già spostato anche Rachel numero 2 Rembole squalificato quali che stanno per completare i tre quarti di miglio con Raja in vantaggio Rorò all'esterno di dentro Rina da Pisa poi Roy Bosti René che cede la retta di arrivo con Raja in vantaggio Raja al comando poi Rina da Pisa Rorò che attacca ancora Roy Bosti J Bay Raja in vantaggio Rorò che attacca poi di dentro Rina ancora Rorò i boss Raja che viene a concludere Renetta per il secondo posto Rorò Buio su Rina da Pisa Raja J W con Federico Esposito in testa da un capo all'altro 16,5 forse 1,2 decimi meno la media al chilometro 3,68 la quota al totalizzatore il training di Wolfgang Rutt a tutti i colori della signora Maria Jeanette Ariden Ah Rock I Rock 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 Grazie.